Salve cari amici di YouTube, sono Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla quest'oggi parliamo di Batman Detective Comics volume 7 siamo giunti al settimo numero di questa Detective Comics scritta da James Tine in un quarto siamo arrivati effettivamente, ahimè, purtroppo alla sua conclusione Xavier Fernandez, Eddie Burroughs e Alvaro Martinez ai disegni di queste storie contenute all'interno di questo volume volume che contiene sì 7 storie ma di cui la prima extra size in quanto era il numero 975 della testata l'albo contiene quindi numeri dal 975 al 981 albo che chiude in realtà due cicli se vogliamo da un lato la gestione di Detective Comics della rinascita con la conclusione delle storie iniziate in quel come si intitolava The Rise of Batman qualcosa del genere comunque la formazione di questa squadra dei Batman da parte di Batman e Red Robin ma al contempo chiude anche un ciclo che era quello di Batman Eternal coscritto da Scott Snyder poi proseguito con Batman e Robin Eternal e si può dire che a suo modo anche se in maniera un pochettino indiretta si conclude con questo gli uomini più pestrello eterni con un volume che devo ammettere mi è piaciuto anche se in alcuni punti mostra un pochettino qualche segno di cedimento ma qualcosa di abbastanza normale tutto sommato e non mai noioso come è potuto succedere in altre serie collana che quindi mi sentirei di consigliarvi di recuperare anche ovviamente in italiano perché è una struttura molto solida questa tanto qui a me a sinistra vedete alcune immagini trattate dal sito di CBR anche per darvi anche un'idea grafica dei disegnatori che ci sono susseguiti all'interno di questo volume comunque la gestione in sé per sé è sempre stata molto solida ci si è sempre focalizzato magari su un certo determinato personaggio perché si voleva sviscerare qualcosa di più su di lui ma non è mai mancata la componente siamo un gruppo la componente di gruppo la componente familiare con tutto quello che poi è successo nel corso della storia dove per l'appunto abbiamo già avuto una caduta degli uomini pipistrello nel volume precedente e qui abbiamo il concetto che in realtà questi uomini pipistrello sono eterni andiamo con ordine parliamo un attimino di queste storie contenute all'interno di questo volume cercare di fare spoiler sull'ultimo volume di una serie penso sia praticamente impossibile ma cercherò di limitare i danni senza dirvi effettivamente magari cose un pochettino più specifiche l'album si apre come dicevo col numero 975 che mette in gioco in relazione tra di loro personaggi mai apparsi all'interno di questo di questa serie perché? perché li mette insieme? perché alla fine della caduta degli uomini pipistrello il volume precedente abbiamo avuto Batwoman compiere un certo determinato atto una certa determinata azione che andava anche contro le regole di Batman e Batman a questo punto vede anche la reazione di alcuni componenti della squadra che aveva formato una squadra formata da persone comunque da addestrare persone che non sono così fortemente legate a lui come potrebbero esserlo i suoi alleati più storici quelli che chiama in causa in maniera diretta all'interno di questo numero 975 avremmo infatti quello che è il Trials of Batwoman il processo a Batwoman non mi vengono più i termini quando parlo in inglese ragiono in inglese comunque il processo a Batwoman un vero e proprio processo no perché Batwoman non sarà mai presente all'interno di questa storia se no per alcuni flashback e per iniziare a costruire la storia che sta per arrivare quel Batman Eternal all'interno di questa storia però abbiamo una forte discussione con Batman e gli altri membri della Batfamiglia quindi Nightwing Cappuccio Rosso Red Robin e Robin Robin stesso e Batgirl insieme stanno ragionando per cercare di capire quanto può essere colpa di Batwoman quello che è successo e quale punizione eventualmente dare a questo personaggio che non è così legato cioè è legato alla Batfamiglia per determinati motivi anche piuttosto logici ma allo stesso tempo è un personaggio distaccato non è così avvinto all'interno delle trame della Batfamiglia e quindi come muoversi con Batwoman e con tutta una serie di altri personaggi ovviamente questa qui è una riflessione anche piuttosto intrigante che porta fuori diversi scheletri dall'armadio di Batman stesso in primi c'è la motivazione per cui ha voluto creare a tutti i costi il campanile il bel fry come viene chiamato in inglese appoggiando l'idea e il piano di Red Robin Red Robin che con questo piano con questo campanile col concetto che aveva dietro di squadra di prevenzione contro il crimine a Gotham aveva certe ambizioni aveva un piano in mente voleva verificare se questo fosse possibile e se averne l'appoggio di Batman l'aveva giustamente gasato ma Batman non aveva quel piano probabilmente non aveva quello scopo nello specifico e questo comincia a creare qualche increspatura tra le parti a mettere ancora più in crisi il tutto in realtà è il motore effettivo delle azioni a mettere abbastanza in crisi fin da subito già si sono formati degli schieramenti a partire dal fatto che già si erano formati degli schieramenti tra Batman Robin Batwoman e gli altri membri della squadra di Batman a mettere ancora più Pepe a stuzzicare un attimino di più la situazione ci pensa Ulysses Adrian Armstrong il diciamo il genio dietro le armi della colonia che abbiamo visto nei capitoli precedenti che è ancora a piede libero e che ha un certo determinato piano basato anche sulle tecnologie provenienti direttamente dall'antagonista di A Lonely Place of Living che è due volumi fa quindi in teoria non dovrebbe essere grosso spoiler dirvi chi è l'antagonista però diciamo che è un'entità e una persona che proviene da un altro tempo e da questo altro tempo ha portato trascinato con sé della tecnologia che è finita nelle mani di Armstrong che la vuole utilizzare sfruttare appieno per i suoi obiettivi spetterà quindi a Batman alla squadra dei Batman riunirsi insieme un'ultima volta per affrontare insieme quello che hanno lasciato in sospeso negli ultimi periodi affrontare questa nuova minaccia una nuova minaccia che però sarà in grado anche perché proveniente da un altro tempo e da un altro futuro di mostrare effettivamente piani e linee differenti per tutti i personaggi principali mostrarci quindi potenziali futuri alcuni dei quali sono anche agognati dei nostri stessi personaggi la storia di per sé non è altro che un lungo pretesto narrativo la storia di per sé non è altro che un lungo pretesto per mettere insieme i nostri personaggi provare a cercare di entrare in sintonia con loro cercare di comprendere che cose li ha mossi che cose li ha spinti perché hanno fatto determinate scelte nel corso di queste storie portando a compimento e mostrandoci effettivamente il percorso di maturazione che c'è stato da il primo volume di questa serie fino ad adesso e devo dire che la cosa funziona piuttosto bene non sempre in maniera ottimale la storia è anche piuttosto lunghina deve scendere anche a mostrarci questo nuovo villain con tutte anzi la tecnologia che è proveniente dal futuro che in realtà ha determinate caratteristiche contro cui i nostri protagonisti dovranno assolutamente combattere per poterla fermare definitivamente e lì si scende un pochettino in alcune lungaggini lungaggini anche quasi necessarie ed inevitabili se si voleva per l'appunto creare un arco narrativo dietro questa storia qui ma tutto va a portare ad un'unica conseguenza ad un unico punto di vista ad un unico elemento logico ovvero sia che gli uomini pipistrello gli eredi la legacy di batman è comunque sia eterna sia per quanto riguarda batman i suoi discendenti diretti tra virgoletti i vari robin sia per tutta quella serie di personaggi secondari che hanno costellato l'universo di batman prima del flashpoint e che comunque anche adesso sono ancora in grado di aiutare batman e che sono parte comunque di questa legacy di questa famiglia gestino un quarto riporta la serie a prima della serie rinascita in una qualche maniera ma allo stesso tempo ci trasporta in un futuro l'ultimo capitolo infatti ci mostra un pochettino le destinazioni i viaggi che i vari personaggi faranno le varie alcune destinazioni verso cui i vari personaggi proseguiranno il loro cammino per portare il nostro batman ha uno status quo un pochettino più ordinario detective comics non poteva molto probabilmente continuare all'infinito con questa idea di team con questa idea di squadra e focalizzarsi su una squadra di batman anche se effettivamente è un po' un peccato il concetto era comunque molto avvincente e non mi dispiacerebbe vedere qualcosa del genere più avanti so che uscirà batman and the outsider come serie terziaria di batman e sono curioso di vedere che cosa ne salterà fuori leggerò qualche commento americano prima di buttarmici perché comunque batman funziona con certi determinati personaggi in questo caso qui erano tutti in un qualche modo legati alla sua eredità e quindi la cosa ha funzionato alla grande e invece il terrore con certi personaggi che fuoriescono da questa logica possano non funzionare e niente quindi vedremo le avventure che ci porteranno altri scrittori sul personaggio di di batman non sarà probabilmente questa detective comics così celebrata come quella di ton che come il batman di ton king che al momento è nettamente più intrigante per tanti determinati motivi ed ha anche una costruzione molto più originale che non questa di james tini un quarto ma come lettura superioristica di un super gruppo tutto focalizzato sulla figura di batman la gestione di james tini un quarto è più che apprezzabile e sinceramente mi sento decisamente di consigliarla a tutti i lettori che si vogliano avvicinare a qualcosa del genere o semplicemente se vogliono leggere qualcosa di batman lievemente diverso dall'ordinario ma molto lievemente diciamocelo molto standard come batman ma allo stesso tempo vogliono conoscere personaggi minori legati a questa legacy a questa famiglia e vogliono magari da lì poi sviluppare una conoscenza ulteriore su questi personaggi lunga vita james tino un quarto detective comics e vediamo adesso brian hill dove ci porterà con la sua fantasia e la sua scrittura questo è quanto avevo da dire per oggi questo è uno spazio dei commenti aspetto vostre opinioni in merito a questo batman eternal che cosa ne avete pensato se l'avete letto so che sta uscendo adesso in italia penso che manchino gli ultimi capitoli indicativamente se non ho capito male perché comunque non seguendo più a mega lo seguo ancora praticamente sempre per vedere le uscite generali di tutte le case editrici seguo anche ogni tanto i forum per vedere dove si è arrivati con la lettura degli spillati penso che questa sia se non sbaglio quasi al sul finire quindi anche se non l'avete finito qui sotto la spazio dei commenti ditemi la vostra avete letto questo arco narrativo che cosa ne avete pensato finora e che cosa ne avete pensato della gestione di James Dean un quarto sul personaggio di batman e di tutta la batfamiglia in questo detective comics qui da francesco i popoli ai miei spalle dalla soffitta di come almeno più soffitta è tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao